l'antenna diciamo compatta fatta di ridottanza e questo top la ricevente in basso e questo condensatore ha effetto pointing dall'alto al basso dal basso all'alto un leggero spostamento di fase è visibile generatore di impulsi dal basso verso l'alto in alto verso il basso dal basso verso il basso nel basso e verso l'alto in alto verso il basso Grazie a tutti